Poco meno di un mese all'avvio dei tornei di calcio a 5 il 30 settembre via i campionati di A1 e A2 Elite, le massime serie nazionali di Futsal. Molisani protagonisti in A1, in particolare con il coach Fausto Scarpitti che esordirà con il suo Pesaro in casa contro i piemontesi dell'L84. Subito una sfida probante per il tecnico esernino che dovrà affrontare i campioni in carica della Coppa Divisione, nonché i protagonisti della Pool Scudetto con l'uscita ai quarti di finale. Esordio casalingo anche per l'eco-city Genzano di Barrichello e Caruso, i laziali affronteranno i neopromossi dell'Olimpia Verona, un'occasione ghiotta per bagnare con una vittoria la prima storica gara nel torneo di A1. Prima settimana di lavoro in archivio per il CLN Gusmolise, lunedì è partita la preparazione atletica dei ragazzi di San Gennario. Il torneo di A2 Elite è tutto da scoprire, certo il numero limitato di giocatori stranieri in rosa dovrebbe equilibrare le forze. Sarà la disponibilità dei giocatori italiani a fare la differenza. In A2 Elite il play italiano, salvo rari casi, non vive solo di futsal, motivo per il quale è più facile scegliere una società dove si possono abbinare lavoro e sport. In quest'ottica il Cus Pagadazio portare i giocatori italiani a campo basso vorrebbe dire affrontare ingaggi troppo onerosi che non rispecchiano il reale valore di un giocatore che magari in un'altra piazza costerebbe molto meno. Da qui la scelta di puntare sul prodotto locale, ragazzi molisani che già da anni sono protagonisti con la maglia del Cus o giovani promesse pronte a vivere la grande ribalta nazionale. Certo l'apporto degli stranieri Turek, Bocca e Chilez sarà fondamentale per far crescere il tasso qualitativo del collettivo. Altri giorni di lavoro poi a seguire la settimana prossima il primo test amichevole per Di Stefano e compagni contro il Manfredonia. Test atletici per lo sporting campo basso, lo staff tecnico ha radunato tutti i tesserati per un primo approccio alla stagione. La base da cui andare a creare il lavoro per le prossime settimane, la vera preparazione atletica della società campobassana, ricordiamo, partirà lunedì sera. Una bella sfida da affrontare per la società al primo anno di militanza in un torneo nazionale, precisamente il campionato di Serie B. C'è tempo per preparare nel migliore dei modi l'esordio in campionato, previsto sabato 14 ottobre in casa contro il Sulmona.